San Michele aveva un gallo, dei fratelli italiani, era un bellissimo film politico ma anche poetico e finiva con il suicidio del protagonista, proprio come il mio film. San Michele aveva un gallo. Sì, ma voi dovete essere più ambiziosi. I nostri prodotti sono visti in 190 paesi. 190 paesi, 190 paesi. In questo film qual è il percorso del protagonista? Qual è il suo arco narrativo? Come cambia? Ma nella vita nessuno cambia mai veramente, è una cosa che si vede solo nei film. I nostri prodotti vengono visti in 190 paesi. E questo l'abbiamo detto. Purtroppo la sua sceneggiatura è uno slow burner che non esplode. No? No. Puff. Gli spettatori decidono se continuare a guardare un film nei primi due minuti. Bisogna arrivare prima all'incidente scatenante che adesso è al minuto? Sette. Mentre il primo turning point arriva al minuto? Sessantadue. Troppo tardi. Allora trentacinque. Dodici. Quattordici. Centodiciassette. Trecentonovantuno. Due. Due è troppo presto. Troppo presto. Comunque c'è un grosso problema. In questo film manca un momento what the fuck. Comunque i nostri due protagonisti sono degli attori eccezionali, eh? Sì. No. Forget about Italian actors. Of course. Guardi, non parliamo di attori. In Italia non avete uno star system, mentre i nostri prodotti sono visti in cento novanta paesi. Cento novanta paesi. Cento novanta paesi. Cento novanta paesi. What the fuck? Grazie.